Fino a 27 anni io non sapevo che esistesse una nomadelfia. Ho scoperto nomadelfia attraverso un libro, nomadelfia è una proposta, quel libro ci aveva interessato lì nel gruppo che eravamo, dovevamo venire a vedere nomadelfia. Poi mi sono trovata qui da sola perché alcuni non potevano, insomma le solite cose che possono succedere, mi trovo qui a fare una settimana nomadelfia e ho scoperto nomadelfia nella sua sostanza. Torno a casa, in treno ero, leggendo L'Uomo è diverso, un libro che vi consiglio di leggere, e quando sono arrivato a casa sono scesa dal treno, arrivo a casa e dico ai miei genitori, io vado a nomadelfia, cosa? Insomma la cosa era un po', sono andata in ufficio, mi sono licenziata, cioè ho dato le dimissioni e poi a gennaio sono venuta a nomadelfia. Già mi aveva colpito nomadelfia, non circola denaro, bellissimo questo, proprio mi aveva colpito. Poi scopro la figura delle mamme di vocazione, incontro l'Ada, è stata la prima mamma che ho visto, un sorriso, una gentilezza, una serenità, in un ambiente così arido, che quando sono arrivato ho detto io qui sono in Africa, non sono in Italia, perché ripeto non c'era l'acqua, quindi immaginatevi come poteva essere qui, di prati verdi, non esistevano. Eppure vedo questa mamma così serena, parlo un pochino con lei, così, dentro di me ho detto ecco, questa è la mia strada. Questa maternità virginia, diciamo che non ho mai, mai, mai avuto 50 anni, sono 51, quindi che sono qua, dei ripensamenti di fondo. E a noi mamme, di più che gli sposi, in questo senso qua, non che gli sposi siano più limitati, tutt'altro, però arriva una ragazza madre, una ragazza madre magari con dei problemi enormi alle spalle, con una vita che non sempre la vogliono cambiare, non perché è questione di volontà, proprio questione ormai di una vita trascinata così, che per loro è difficile vedere un altro. E tu ti porti in casa e dormi con lei, con una prostituta, con una ragazza che è tutt'altro che, diciamo, una convivenza serena e pacifica, no? Tu dici, poi dover combattere con un figlio, perché logicamente sono molto legato ai figli, istintivamente, no? Lo sono. Questo è, questo è il mio bambino, eh? Guai che me lo tocca, d'accordo, il tuo bambino, però il tuo bambino va curato, educato, non lo sanno fare, magari strafanno su certe cose, cioè le riempono di cose inutili, ma quello che veramente... Quindi c'è questo conflitto tra questa mamma che te la devi tenere dietro. E Don Zeno ci diceva, ricordatevi che dovete voler più bene alle mamme che ai figli, perché a un bambino, chi non vuole bene un bambino? È facile affezionarsi, è più difficile amare le mamme. Quando ci sono le mamme lo perdi anche spesso e volentieri il bambino, perché se la mamma decide di andare via, i tribunali, i giudici, i servizi sociali decidono che la famiglia può essere ricomposta, cosa che non sempre avviene, perché purtroppo abbiamo, ho avuto anch'io come tanti altri brutte esperienze, però la decisione aspetta loro, noi abbiamo l'affido appunto, non c'è l'adozione, cioè abbiamo anche alcuni in adozione, però scatta. Noi se guardiamo la madonna, tutto diventa un po' più facile. Quando è arrivato Roberto, io avevo due anni questo bimbo con la fibrosi cistica, la mucoviscidosi, e l'ospedale gli ha dato sei mesi di vita, perché era stato praticamente abbandonato all'ospedale, non curato, quindi la malattia, tanto è vero che poi a undici anni è morto, però i sei mesi di vita sono diventati undici anni. Quando arrivato non parlava, era vivace come bambino, ma poi era simpaticissimo proprio, però non sapeva parlare perché non aveva avuto il contatto continuo con una figura, diciamo la mamma, o comunque qualcuno che poteva fare da mamma, quindi faceva così quando parlava, ma capiva tutto. Aveva dieci anni, era l'anno prima che morisse, eravamo all'ospedale a Verona, perché eravamo sempre all'ospedale con quel bimbo lì, e c'era, e dice, Neluscomi ci chiama e dice, devi venire giù che ho segnato Roberto, perché cento qui della zona di Grosseto, quando era qui, solo in cento potevano prendere la comunione dal Papa, logicamente, con tanto di nomi, era tutto segnato, però devi venire giù assolutamente, lo dico al professore, davanti al Papa non si può dire di no, sospendiamo la terapia, la riprendete e poi quando tornate, e quando sento giù, c'era solo il suo nome, quindi l'endarmeria, che era lì sulla porta, la messa è stata fatta allo stadio a Grosseto, quindi c'era c'era quella gente, dice, ma lei signora non può entrare perché il suo nome non ce l'ho detto, ma io sono la mamma di questo bimbo, tra l'altro è malato, dieci anni, cosa faccio? signora, ho rinuncia, io non posso farla passare, gentilissimi, ma io se non ho il nome non posso, e mi fa, ma mamma tu stai qua, non ti muovi, io vado, e poi tu mi aspetti qua, vedrai che ti ritrovo, ho detto, ma te la senti di andare? Sì sì, se il bambino vuole venire, io l'accompagno fin dove deve andare, vabbè, se il migliore accompagnalo tu, dopo due ore me lo vedo ritornare, e io in pensiero, se le prende la tosse, se le prende perché vomitava spesso e volentieri, insomma la malattia era così, perché apparentemente sembrava un bimbo sano, perché un bel visino, se vedete la fotografia è bello, logicamente la malattia c'era, l'anno dopo è mancato, è tornato dopo due ore, luminoso, ho preso Gesù dal Paffa, era contento, mi dai una corda, mamma che ci vuoi fare con la cordicella? Sai, io mi stanco andare in bicicletta, a volte sono bambini adesso in questa storia che vanno in bicicletta così, allora se ho la corda, la leggo, il manubrio, mi tirano, faceva veramente così, cioè lui pur di partecipare le inventava tutte, lui ha detto, il suo tema l'ha fatto, io sono nato a Nomadelfia all'età di due anni, lui è morto a ottobre, sarà stato il mese di luglio, era il mese di luglio, voleva andare al mare con gli altri, non da solo, ha detto ma io voglio essere un giorno come tutti gli altri, perché gli altri non è che avevano le mamme dietro, io dovevo andare, ero c'ero sempre, quindi vorrei andare un giorno come tutti gli altri, se tu non vieni, se mi lasci andare, aveva la febbre, ho detto senti, tanto non è questo che lo farà, e lui è salito col pullman con gli altri da solo, diciamo senza di me, e alla sera, dunque lui al mare è stato tutto il giorno seduto sotto l'ombrellone con un asciugamano sulle spalle, perché nell'acqua non poteva andare, diventava tutto blu, con tutti i moscerini che gli giravano intorno, quindi lui niente, guardava gli altri che si divertivano, e ha scritto, io scrivevo a macchina, devo fare la trasmissione, quindi lui sapeva un pochino scrivere a macchina, perché lo faceva, e mi ha scritto questa lettera, dove dice che lui ringraziava Gesù, perché ti ringrazio di avermi lasciato andare, anche se avevo la febbre, mi sono divertito moltissimo, divertito moltissimo, seduto sotto l'ombrellone, e ti ringrazio con tutto il cuore, il sole, la luce che il Signore ha creato per noi, ma delle frasi stupende, ma poi gioiose, non dicendo sai io però non ho potuto fare, no, lui era come se avesse fatto più di tutti gli altri, lui dice la mamma senz'altro, perché lo sappiamo bene che ci vuole la mamma, però l'ambiente anche, e Don Zeno ha sempre combattuto tanto l'ambiente, anche i ragazzi più grandi, posso dirvi anche di un altro caso, una ragazza drogata, aveva 17 anni, 4 anni di eroina alle spalle, aveva fatto la cura del sonno, io non so bene in che cosa consisteva, comunque la cura del sonno, e il dottore che conosceva bene Don Zeno, Giochino, no, Lidia, ha detto provate a prenderla lì, allora non c'era ancora proprio, c'erano già qualche comunità terapeutica, ma non come oggi, magari può darsi che così nell'ambiente. Viene questa ragazza che non si reggeva quasi in piedi, perché era tutto un buco, dai piedi a tutto, una cosa che tra l'altro era una ragazza meravigliosa come carattere, però una storia bruttissima alle spalle, si è trovata giovanissima in quelle condizioni lì, adottata, poi violentata dal palco, insomma tutto, il fatto sta che si è trovata sulla strada, in quelle condizioni lì, e non si è salvata, è morta a 27 anni, voleva vedere il bambino che gli avevano tolto, una piacenza, era nell'ospedale, non glielo lasciavano vedere perché l'avevano già, era già in adozione, e lei dormiva in una vecchia ambulanza sotto lì nell'ospedale, quella notte lì si è o con la sigaretta o accendendo qualcosa, nelle condizioni che era, ha preso fuoco, non la fiamma, la combustione, insomma così, è morta intossicata, ecco. E quando è morta, hanno trovato nella tasca dei jeans, un biglietto che Don Zeno, Don Zeno era già morto, che gli aveva scritto, e che lei se lo tirava sempre dietro, io mi chiedo come faceva una ragazza di strada, mi scriveva, avere ancora quel biglietto, dove Don Zeno gli diceva, Rita in qualunque posto tu sei, ricordati che io sono sempre tuo padre. Per noi è un dono, perché avere la presenza del Papa qui, vuol dire che il Papa ci vede e ci approva, ecco, non dico che ci dia la sua santa benedizione, senz'altro, l'approvazione è più che altro che noi siamo in attesa che ci dica qualcosa che incida sulla nostra vita, non qualcosa come, come si può dire, un incentivo per continuare meglio, e quindi noi siamo in attesa di quello che lui ci dirà, non tanto di approvazione o di siete bravi, ecco, qualcosa che ci dica, non lo so, sarà lo Spirito Santo che ce lo ispira, se ce lo meritiamo. non lo so,